Allarme rientrato. Nessuna nuova destinazione degli spazi dell'ex Balestra G, la Torre del Greco. I locali continueranno ad essere utilizzati dalle associazioni del territorio, in particolare da disabili ed anziani, per lo svolgimento delle loro attività e per momenti di festa e aggregazione. Il comune non ha ancora provveduto al rinnovo delle autorizzazioni, ma è solo una questione di giorni. A sollevare la problematica il comitato mamme disabili, che questa mattina si è recato a Palazzo Baronale, per avere delle risposte. Una delegazione di mamme è stata ricevuta dal capo di gabinetto Alfonso Scione e dal portavoce del sindaco Salvatore Perillo. Un incontro proficuo che non lascia spazio né a dubbi né a preoccupazioni. Siamo qua perché ieri ci siamo allarmati, perché non ci volevano fare entrare nella palestra Gil, che è la nostra sede, almeno il martedì e il venerdì. E quindi ci hanno detto che non potevamo entrare perché non avevamo avuto il permesso. Quindi stamattina siamo venuti, giustamente ci siamo allarmati perché per noi è una cosa molto importante. sapete bene, l'abbiamo sempre detto, per noi quella sede è la nostra seconda casa. Siamo come una famiglia e da lì partono tante iniziative e tante cose belle per i nostri ragazzi. Però ci hanno ricevuti e quindi ci hanno assicurato che a breve sicuramente si sistemerà la cosa perché era solo giusto per un fatto tecnico e questo è il nostro piacere. Che cosa fate in quegli spazi? In questo periodo stiamo facendo un bel progetto con la cooperativa che sta comunque facendo delle cose veramente importanti per i nostri ragazzi. Stiamo vedendo i frutti, i ragazzi si divertono e stanno bene. Quegli spazi oltre a voi sono utilizzati anche dagli anziani? Sì, anche dagli anziani, quindi ci preoccupiamo anche per loro. Sono delle fasce deboli e quindi è giusto che insomma anche loro abbiano questi momenti di aggregazione e insomma come noi ne abbiamo beneficio. L'importante è che questa mattina vi siano state date delle garanzie. Sì, 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 ci hanno dato proprio delle garanzie dicendo che a breve non passerà nemmeno forse una settimana e si sistemerà la cosa che è giusto un fatto tecnico che si è bloccato e insomma noi eravamo preoccupate perché per noi, ripeto, è una seconda casa. Anzi, chi ci vuole stare vicino ne abbiamo bisogno perché comunque siamo delle mamme con tante preoccupazioni e abbiamo bisogno comunque delle persone che insomma ci diano forza per andare avanti.